Il biscottificio Dogliani ospita incontri in fabbrica, donna, anime, corpo, quarta edizione, un programma a cura dell'associazione culturale L'Angolo e le stelle. Questa sera, venerdì, con l'attrice Ottavia Piccolo si parlerà di diritto di cronaca e di libertà di stampa. Magari color sabbia. Si pensa sempre che le case in Asia siano color sabbia. Invece eccole qui, cemento grigio, sporco, quasi nero. Non sembra Asia. Asia. Eppure Asia. Asia 2006. È il 5 agosto. Polvere in aria. Ottavia Piccolo, lei questa sera ha l'onore di inaugurare la quarta edizione di Donna, Anime e Corpo, uno degli appuntamenti ormai stabili dell'estate carrarese al biscottificio Dogliani. Questa sera si parlerà di libertà di stampa, di diritto di cronaca. In particolare, qual è il tema che affronterà? Ma dunque, noi con questa nostra serata ricordiamo Anna Politkoskaya, che era una giornalista russa, che è stata uccisa due anni fa, circa l'ottobre del 2006, e che non sapeva stare zitta. Faceva il suo mestiere con grande attenzione, con grande cura e con grande sincerità. Quindi ci sembrava, oltretutto, con Margherita Logliani, ci siamo trovate d'accordo che questo fosse un buon modo per iniziare, per parlare appunto di donne, libertà e libertà di stampa. Questo è un testo che ha scritto Stefano Massini, che è un giovane autore fiorentino. È un testo che ho già portato un po' in giro per l'Italia e che andrà in onda, tra l'altro, su Rai 2 per palcoscenico il 3 ottobre. Che altro? C'è insieme a me un'arpista molto brava che si chiama Floralè da Sacchi. E basta, raccontiamo un po' del modo che Stefano Massini ha letto nelle cose che Politkoska gli ascriveva e lo raccontiamo ovviamente a modo nostro, a modo suo, nel senso di Stefano Massini e a modo mio. Allora, uscendo un attimo dalla serata, per lei che è un'attrice affermata, che ha fatto della libertà di espressione, un po' una ragione di vita. Cos'è, dicevo, per lei la libertà di stampa? Ma è la libertà. L'informazione, soprattutto in questo nostro mondo, è una cosa fondamentale. Nel momento in cui ci sono dei giornalisti che sono semplicemente dei portavoce e non fanno più il loro mestiere, tutto viene falsato. Quindi abbiamo bisogno di gente seria che faccia il suo mestiere, come dice il nostro Presidente della Repubblica, con la schiena dritta. Non sempre ci si riesce, ma insomma, speriamo, abbiamo fiducia. Un'ultima cosa, nello slogan Donna, Anime e Corpo, cos'è racchiuso secondo lei? Ma è racchiuso una grande cosa. Intanto donna è tutto, senza la donna non esiste il genere umano. E' vero anche senza l'uomo, però diciamo che la donna ha in mano il senso esatto della creazione. Quindi mi sembra un buono slogan, però ovviamente non abbiamo niente contro gli uomini, mi raccomando.